Io sono Stefano De Martino, insegno al Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino e mi occupo delle civiltà del vicino Oriente Antico e in particolar modo di quelle dell'Anatolia e della Siria e insegno agli studenti alcune delle lingue del vicino Oriente Antico e a leggere la scrittura cuneiforme, cosa che agli studenti piace moltissimo perché quando attraversano i corridoi di Palazzo Nuovo con queste fotocopie in cuneiforme altri ragazzi gli dicono ma cosa state facendo? Loro dicono la lezione di cuneiforme e si sentono molto felici. Siamo in un mondo globale e la storia si muove sempre più in una direzione globale e conoscere che cosa è successo in epoche così remote, quando per la prima volta si sono formati i primi centri urbani, quando la popolazione ha imparato a coltivare i campi, ad allevare il bestiame, ha elaborato tecnologie e metodi di struttura sociale, di struttura politica, amministrativa. Tutto questo è un patrimonio del quale non possiamo dimenticarci. Tra Torino e la Mesopotamia c'è un legame che risale a quasi due secoli fa. Anche se il Piemonte e l'Iraq, cioè l'attuale paese dove si è sviluppata la civiltà della Mesopotamia, sono fisicamente lontani, in realtà Torino e Bagdad, possiamo dire, sono vicini. Forse non tutti sanno che uno dei più grandi scopritori delle civiltà della Mesopotamia, Paul Emil Bottà era piemontese, era torinese, anche se naturalizzato francese. Bottà è riportata alla luce una delle più grandi capitali dell'imperonio, a Siro, la città fondata da Sargon II alla fine dell'VIII secolo, che si chiamava Dursha Rukin, la città di Sargon. E nel 1847 ha donato alcuni pezzi, due pezzi, allora al Museo Egizio, e ora questi pezzi sono nelle collezioni del Museo di Antichità, e tra questi un capolavoro dell'arte del Vicino Oriente, la testa di Sargon. Solo vedere la testa di Sargon vale una visita alle collezioni orientali. Ma credo che pochi sanno che nel Museo di Antichità c'è la più ricca collezione di testi cuneiformi in Italia, 800 tavolette, un numero di gran lunga superiore alle altre collezioni italiane, quelle dei Vaticani, le collezioni milanesi. È un patrimonio documentario straordinario di testi che si datano alla fine del III millennio, ma ce ne sono anche alcuni che noi studiosi chiamiamo di età paleobabilonese, vuol dire del tempo del grande Hammurabi di Babilonia. E questi testi ci fanno conoscere come funzionasse la macchina amministrativa della Mesopotamia della fine del III millennio, un patrimonio documentario straordinario che invito tutti a vedere e conoscere. Nei primi anni Sessanta un professore dell'Università di Torino, Giorgio Gullini, per quanto docente di archeologia greco-romana, ha aperto delle nuove prospettive di studio. Gullini era affascinato dallo studio della diffusione della cultura classica in Oriente e nel 1963 ha aperto lo scavo di Seleucia, cioè la grande città fondata da Seleuco, compagno di Alessandro Magno nelle spedizioni in Asia. E ha fondato anche il Centro Ricerche Archeologiche Scavi di Torino per il Medio Oriente e l'Asia, che tutti conoscono come Centro Scavi, con questa dicitura più semplice, che da allora opera in Mesopotamia. Il Centro Scavi ha condotto attività archeologiche molto importanti in Mesopotamia, anche di salvataggio come lo scavo di Telielchi. E qui mi fa piacere ricordare che io da studente dell'Università di Firenze ho passato sei mesi nel lontanissimo 1978 sullo scavo di Telielchi. E' stato un momento centrale della mia vita, perché ho capito che cosa volevo fare da grande, quindi lo studioso delle civiltà del Vicino Oriente Antico. Tutti i giorni uscivano fuori tavolette, vasi, reperti straordinari, gioielli nelle sepolture. Certo, non tutti gli scavi sono così ricchi, ma gli scavi del Centro Scavi sono sempre molto interessanti. Ho avuto poi la fortuna di essere chiamato a insegnare a Torino, di diventare direttore scientifico del Centro Scavi e voglio ricordare le attività più recenti, cioè il recupero e il riallestimento delle sale dell'Iraq Museum di Baghdad, gravemente danneggiato e saccheggiato nel 2003. Siamo riusciti con la collaborazione delle autorità irachene, del Ministero degli Affari Est e dell'Italiano e di altre istituzioni a riaprire nel 2013 le sale monumentali del Museo e attualmente stiamo lavorando a riallestimento della Sala Sumerica, che è particolarmente affascinante perché ci sono i grandi corredi delle tombe principesche del mondo sumerico, quindi dei primi secoli del terzo millennio. Quindi il legame tra Torino e l'Iraq continua e vivo, i nostri studenti lavorano sullo scavo che attualmente abbiamo aperto in Iraq e cerchiamo di mantenere questo rapporto grazie anche alla collaborazione con le altre istituzioni locali e primo tra tutti il Museo di Antichità. Grazie